Quando il lievito è ben sciolto aggiungiamo metà della farina facciamo assorbire bene dopodiché finiamo di aggiungere la farina e due cucchiaini scarsi di sale e continuiamo a mescolare bene allora ora coprirò con pellicola e farò riposare due ore a temperatura ambiente dopodiché trasferirò il tutto in frigorifero dove riposerà per circa 24 ore a domani 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.